Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo come al solito al giovedì e siamo con le ricompense settimanali The Food Champions. Innanzitutto volevo sempre ricordarvi del mio canale Twitch che streamerò FIFA dalle 13.30 alle 16.30 di ogni sabato. Il mio canale è sotto in descrizione. Oggi non ci sarà Stefano con noi perché è ancora occupato con l'università però potrò aprire i suoi pacchi. Lui ha ottenuto, non vi dico cosa, lo vedremo dopo. Partiamo con i miei premi di questa settimana. Intanto ragazzi guardiamo il team of the week della settimana. Chiaramente, chiaramente ci sarà la carta introvabile Messi, dove è messa solo lì, Messi è messo. Solamente per creare false speranze. Poi, buona carta Naengolan, secondo me è veramente una fantastica carta. L'hanno messo finalmente come CoC, quindi si può spostare nel centro campo senza magari metterlo dopo perché prima era esterno. Quindi secondo me buonissima carta. Vabbè, Lewandowski 91, Robertson, Alex Telles forse come buone carte. Poi vabbè Tesni ma non mi convince. Quindi chiaramente le speranze sono su Messi. O anche Lewandowski Lewandowski però mi viene già da ridere pensando i pick. Chissà che merda troverò. Vabbò, adesso andiamo con i player pick. Come al solito sono arrivato oro 3, con la possibilità di arrivare oro 2. Domenica mattina si giocava da dio, poi la domenica pomeriggio si giocava di merda, completamente lenti, non era più fluido il gioco e non riuscivo più ad andare avanti. Ho perso. E ho perso. Ancora per un paio di partite non sono arrivato a oro 2. Sempre la solita menata. Scelta giocatori da 2. Due pacchetti mega. Un pacchetto giocatori rari. 30.000 crediti e la qualifica del full champion su questa settimana. Allora, il team of the week l'avete visto prima, quindi sapete le speranze nulle di trovare ciò che voi pensate che io trovi. Quindi partiamo con quello di sinistra. Esatto. Mi trovo un grandissimo barella che perlomeno mi ha fatto vincere il fantacalcio questa settimana. Bene, dopo questo grande 83, immagino che questo qua sarà un 70. Perché, visto com'è, barella ancora. Non si può prendere doppio. Fa talmente cagare, cazzo. Vabbè, Morsic per overall. Che schifo. Veramente che schifo, ragazzi. Proprio cagare. Proprio cagare. È incredibile come le false speranze che danno i team of the week siano veramente alte. Nel senso che tanto non si trova mai una ceppa di cazzo. Eccoci qua. I mega 3 pacchetti. Partiamo col pacchetto mega. Magari trovassi uno della Champions League. Magari. Magari. Non è niente. Non è un cazzo di niente. Wow, William Joseph. Magari si vede bene qualche SBC. Tra l'altro le SBC che sono uscite adesso fa pena. Non hanno messo Vinicius. Non hanno messo... Vabbè. Non hanno messo Vinicius. Non hanno messo coso. Ben Yedder. Quindi... Cioè, hanno sprecato secondo me... Non volevano far salire il mercato. perché... Oh, walkout. Attenzione. Spagna fa cagare. Cioci. Nel Madrid è coso. Mi salta in testa il nome. Isco. Punto. Walkout Spagna. Che cazzo c'è? È sempre meglio di Italia. Cioè, quando dice walkout Italia c'è solo la piange. Giova a Felix a quanto lo si vende. Mi sa un pochettino. Mi sa che è alto. 3k. Dd. Wow. Wow. Ragazzi, solo emozioni FIFA. E poi secondo me il drop rate sta diminuendo a cascata. Veramente... Più si va avanti, più veramente è basso. Cosa cazzo è successo? Ho visto due palle enormi all'inizio. Tante. Veramente tristi. Bene, ragazzi. Passiamo sull'account di Stefano, sperando di trovare qualcosa di meglio. Però se lo trovo mi incazzo, perché è sul suo account e non sul mio. Eccoci qui sull'account di Stefano. Purtroppo aveva già aperto i premium, ma nel senso che ha aperto solamente il riscatta premi, ma poi non li ha riscattati. E quindi non potete vedere cos'è arrivato. Lui questa settimana è arrivato oro 1. Quindi, speriamo di qualcosa di meglio. Complimenti a Stefano per aver migliorato la sua gradosoria. Ora partiamo con i suoi due player pick. Questa volta partiamo da destra. Beh, decisamente molto meglio dei miei. Van de Beck. Sicuramente i penno van de Beck. Perché è esclusione, non glielo chiedo neanche, però Secondo player pick. Che culo, figa. L'altra volta che è in 90, questa volta Lewandowski 91. Dio buono. Volta prossima però prima i suoi, poi i miei. C'è. Si gran cazzi. 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 Negozio. I due pacchetti da 100k. Giocatori rari maxi. Facciamo come prima che mi ha portato fortuna. Che I ha portato fortuna. Prima pacchetto di destra. Ah. Pandiere. O è Bale? No. Non lo so. Ah, un if. Perché al momento ho pensato Bale, però Bale 85. Un if? Beh. Si fa i suoi 10k perché non salirà di più. Ok. Secondo pacchetto. Il primo non tanto happy. Cioè già con Lewandowski 91 ho sculato ancora. L'altra volta che è in 90. Cavacca. Walkout. Attenzione. E Kulibaly. Lo sapevo già appena visto la bandiera. Kulibaly. Un buon difensore, però non penso che valga più di tanto Kulibaly. Non ho idea ma sarà sui 30-40k. Dietro chi c'è? Pareco Berwin. Vabbè. E il resto è molto discutibile. Mi è andato a infilare tutto di là. Nella lista di trasferimenti. Bene ragazzi. Per questa settimana i player pick sono finiti. Vi ricordo ancora il mio canale Twitch. Che sarò in onda su Food Champions. Sabato dalle 13.30 alle 16.30. Poi vi troverete anche in settimana a streamare l'hollo. Di solito perché la connessione mi basta solo per quello. Vi ricordo ancora di lasciare il vostro nickname sotto nei commenti. Che così possiamo aprire i vostri pack in SharePlay. Come potete vedere io porto culo agli altri ma non a me stesso. Niente. E io ragazzi vi saluto. Ci vediamo in live il sabato. Bella a tutti ragazzi.